Sottraivano ricette in bianco da uno studio di un medico di base di Napoli, poi in un centro diagnostico, dopo averle compilate, sottoscritte e corredate di pareri medici e specialistici, tutto falso e ai danni di ignari pazienti e medici, inviavano le ricette all'asla di Napoli per ottenere rimborsi per prestazioni che in realtà non venivano mai eseguite. E' così che due donne hanno messo in atto una vera e propria truffa al sistema sanitario, 80.000 euro, il danno calcolato all'erario. Per le due donne sono scattati i domiciliari, disposto anche un sequestro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, durante il 2016 le due donne, un ex assistente di un medico di base e un'amministratrice di un centro diagnostico, sono riuscite a ottenere numerosi rimborsi per prestazioni.